Eccoli i pirati affamati che si sono dati battaglia durante la quarta edizione della caccia al tesoro che si è svolta nel centro cittadino sabato pomeriggio. 40 le squadre che si sono iscritte all'iniziativa organizzata dal Forum per la Cooperazione Internazionale e coordonata dal Comune. Obiettivo della manifestazione era migliorare il dialogo e la dimensione multiculturale del territorio. Il tema di questa edizione era il cibo e da qui il titolo i pirati affamati. La scelta non è stata casuale ma è nata dalla consapevolezza che il cibo è cultura e in quanto tale può essere un importante strumento di integrazione tra individui di diversa origine e tradizione. Inoltre il 2018 è stato proclamato Anno Nazionale del Cibo Italiano da Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo. Sulla scia del successo dello scorso anno, quando la manifestazione ha visto oltre 200 partecipanti per un totale di 32 squadre, anche per questa edizione i partecipanti hanno affrontato prove di abilità su molteplici tematiche, in un'appassionante avventura tra le strade cittadine e sulle mura urbane. Il tutto all'insegna di uno spirito collaborativo e cooperativo che alla fine ha portato ad un arricchimento di tutti i partecipanti.